Quando è comparso il web, prima ancora, quando è comparso internet e quando l'intelligenza artificiale è entrata nella nostra vita, gli umani, in particolare i filosofi che sono fra i più ottimisti tra gli umani, non è un complimento, hanno detto che tutto questo avrebbe generato una forma di intelligenza collettiva e si sarebbe trasformato anche in una specie di emancipazione generale, una politica senza intermediazione, una specie di libertà da tutti i vincoli, finalmente un'informazione sana e non contaminata dall'ideologia del potere, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà quello che ha creato il web non è quindi tanto l'emancipazione di persone che finalmente possono confrontarsi a una specie di democrazia diretta, di accesso diretto al sapere o cose di questo genere, ha sicuramente creato un fenomeno molto interessante e cioè questa mobilitazione per cui noi siamo continuamente in azione, continuamente in azione anche su delle cose minime, cioè muovere le dita, ma conta anche quello come azione perché nel momento in cui un atto è registrato comincia a produrre del valore, valore che noi stessi non percepiamo ma che chi registra percepisce dove siamo, quali sono le nostre credenze, i nostri interessi, le nostre valutà. Si crea un capitale che è enormemente più elevato del capitale finanziario perché il capitale finanziario dà soltanto certe informazioni, quelli che ci vengono dai prezzi, dalle ricchezze delle persone, poi soprattutto le banche avevano delle informazioni, l'ufficio del fisco ha delle informazioni, tuttavia il fisco ha delle informazioni altamente imperfette soprattutto in Italia perché c'è una grande evasione fiscale oppure c'è un'economia sommersa, mentre quelle informazioni là che si hanno sono sia molto più accurate perché le persone non hanno interesse a mentire, non hanno convenienza a mentire quando stanno comprando un biglietto del treno o stanno andando su un sito, così come sono estremamente individuali, riferite a persone, non sono le informazioni generali che ci vengono dalle statistiche. Quindi c'è un'enorme conoscenza, però è una conoscenza asimmetrica, nel senso che da una parte tu hai una cosa che, dai una cosa di grandissimo valore, mentre ricevi delle cose che hanno valore, ma il valore è sicuramente inferiore. Questa grandissima trasformazione è la causa, secondo me, che non è percepita. Ecco, per essere chiare, c'è un'enorme mobilitazione che viene percepita così, ma un'enorme asimmetria che non viene percepita, cioè questa mobilitazione è sostanzialmente un lavoro, un enorme lavoro non retribuito in cui fra l'altro i lavoratori si comprano a loro spesi in mezzi di produzione, nel senso che sono loro che si comprono tutti gli apparati per connettersi e che si produce nel momento in cui invece i lavori tradizionali tendono a scomparire.